E si aggiungono ai 5 treni che abbiamo portato già l'anno scorso nel 2019 e ai prossimi 17 treni che arriveranno entro l'agosto 2021. Quindi rinnoviamo completamente la flotta, il governo musulmane ci dà una spinta eccezionale al trasporto ferroviario in sinergia e in collaborazione con Trenitalia che vogliamo oggi ringraziare ufficialmente per l'impegno, la benedizione che sta mettendo in campo e soprattutto per il miglioramento del servizio ferroviario. Questi due treni che voi vedete, soprattutto uno è il primo treno che avrà il dispenser, cioè il self-service per la somministrazione di alimenti e di bevande, così come avevamo detto. La tratta che metterà in campo riguarda la Palermo Messina, la Messina Catania e la Catania Siracusa.